Adesso, qual è il costo in salute di una menopausa non trattata? Conseguenze sul cervello, conseguenze su tutto il corpo. Ma andiamo sulle conseguenze sul cervello. Noi dobbiamo sapere che nel nostro cervello ci sono quattro aree estremamente importanti. La prima è la neurovegetativa, ipotalamo. Perché? Il neurovegetativo governa tutti i nostri bioritmi. Per esempio, il ritmo del sonno, della pressione, del respiro, l'appetito, sazietà, la capacità di digestione, cioè tutta temperatura corporea, tutto quello che governa la nostra capacità di vivere e che non dipende dalla volontà. Poi abbiamo il sistema emotivo-affettivo, quello che regola i livelli di umore e se siamo depressi ovviamente andiamo giù, ma anche il livello di ansia e depressione. Il terzo grande sistema è quello cognitivo, da cui dipende la nostra capacità di pensare, parlare, ricordare, sapere chi siamo, progettare il futuro, ricordare il passato. E poi l'altro quarto grande sistema è il sistema motorio. Qual è il concetto cardinale? Che tutti questi quattro sistemi, neurovegetativo, affettivo, cognitivo e motorio, soffrono per la carenza degli ormoni sessuali causata dalla menopausa. Interessante, alcune donne soffrono di più a livello cerebrale, altre hanno più sintomi a livello cardiovascolare, altre più sintomi a livello articolare, ma quando le donne hanno vampate importanti, tutto il cervello sta soffrendo. Tanto vero che oggi diciamo che la vampata severa, cioè la donna che poverina si trova a doversi cambiare, tanto è sudata e ha questa escursione termica marcata, poi vi faccio vedere delle immagini molto suggestive di cosa vuol dire avere una vampata, bene, questo è un segnale che predice, come diciamo in vedici, un maggior rischio di depressione severa, ma anche un maggior rischio di Alzheimer e Parkinson. Quindi non vuol dire poveretta sventagliarsi, no, è un marcatore di vulnerabilità, ma siccome è un marcatore di vulnerabilità del cervello, ci dice anche un altro rischio. Per esempio, quando le donne hanno tante vampate, se noi facciamo un alter pressorio, cioè andiamo a misurare come varia la pressione alle 24 ore, che cosa vediamo? Che si perde la variazione circadiana, cioè quella variazione della pressione arteriosa, che di solito ha un minimo intorno alle 3 alle 4 del mattino. Quando questo nadir, questa caduta di pressione si perde, abbiamo una ipertensione maligna, ossia molto aggressiva e più difficile da trattare a livello farmacologico. Quindi la vampata ci dice, attenzione, il mio cervello ha molto bisogno di ormoni, ha molto bisogno di aiuto. Come si può intervenire in questi casi? Si può intervenire con una, innanzitutto diagnosi accurata, perché certamente, io parlo sempre di competenze gemelle, e questo mi piace molto sottolinearlo, ossia collaborare ginecologo e specialista di riferimento. Se la donna ha, io vedo un'ipertensione, ha sempre avuto una pressione normale, magari nel mio paziente da anni, che improvvisamente sale su con 90-100 di minima, certamente faccio fare l'alter, la mando al cardiologo, con cui dialogo poi per trovare, da un lato, le cure migliori a livello di terapia ormonale sostitutiva, ma dall'altro il cardiologo farà la sua parte, perché magari la signora ha anche una familiarità per malattie cardiovascolari, infarti, ictus, e quindi noi dobbiamo sempre offrire la competenza gemella per darle il meglio. Se abbiamo un quadro invece che comincia a diventare impegnativo dal punto di vista della depressione, certamente lavorerò insieme allo psichiatra. Se la signora invece ha più disturbi articolari, correumatologo. In altre parole, è importante sapere cosa il ginecologo sa fare bene e quando è doveroso collaborare con il collega di area specialistica pertinente ai sintomi della signora per offrirle il meglio, perché insieme troviamo proprio quel vestitino su misura terapeutico che le consenta di recuperare questo affondo che la menopausa ha fatto e continuare a stare bene per tanti anni. Quindi rimanendo sulle terapie ormonali, guardate questa bella questa immagine, fategliela vedere, perché qui si fa vedere cosa succede al corpo di una donna quando ha una vampata. In pochi secondi noi abbiamo una variazione della temperatura cutanea, non di decimi di grado, di 4-5 gradi. Tanto è vero che un collega, il professor Gambaciani, che adesso è anche il presidente della società italiana di menopausa, dice sempre che se gli uomini avessero le vampate, le terapie ormonali sarebbero mutuabili dai tempi di Gesù Cristo. Però voi uomini gli ormoni avete fino a 100 anni, noi poverine abbiamo questa massacrata a 50, ecco perché noi abbiamo le vampate, ma non solo le vampate, la vampata è la punta dell'iceberg e voi ve ne state beati. Quindi comprendeteci e soprattutto aiutateci e incoraggiateci a fare delle cure adeguate, perché vedo che spesso i mariti o i compagni sono dei supporter formidabili delle terapie ormonali, veramente. Infatti mi piace molto parlare con la coppia, perché proprio spiegando queste cose, e quando dico soprattutto il rischio che è minimo, perché è un rischio dello 0,08%, cioè niente, il marito si gira e dice ma amore, ma è un rischio ridicolo rispetto a quanto male stai per dire. Quindi è molto importante che si possa condividere in famiglia anche la serenità di fare queste cure con convinzione, con serenità, stando bene tutti quanti. Per esempio abbiamo anche dati che dimostrano come la donna che ha la vampata ha difficoltà molto più serie nel pensare lucidamente e prendere decisioni, perché ha anche un rumore di fondo da ansia e depressione che le impedisce di essere lucida e serena. In più quando dorme male, con un sonno molto superficiale, con molti risvegli, effettivamente ha una lesione specifica della memoria, perché non ha più la possibilità di convertire le tracce di memoria a breve termine in tracce di memoria a lungo termine, cosa che succede durante le fasi di sonno con sogni. Se il sonno continua a essere alterato dalla vampata, manca questa conversione degli appunti per dire in libri nella biblioteca della mente e questo dà delle lesioni della memoria terribili. La donna che viene dice mi ricordo più niente dottoressa, mi ricordo cosa ho fatto mezz'ora fa. Ecco che possiamo recuperarlo, possiamo recuperarlo recuperando sonno grazie a una linfa ormonale che ridà al nostro centro del sonno la capacità di recuperare l'architettura del sonno che ci fa dire mamma come ho dormito bene, mi sento una farfalla e al mattino mi sveglio di nuovo col sorriso e riparto con entusiasmo. Quindi ricordiamoci tutte queste cose e a questo punto come curare. Possiamo cominciare a curare. Nella fase pre-menopausale, per esempio per le donne che hanno già diversi sintomi, irregolarità mestruale, iniziali vampate, un po' di depressione, la sindrome per mestruale se mi dicono vanno i pazzi. Bene, in queste signore se non abbiamo controindicazioni, e la controindicazione principale è avere già avuto un tumore alla mammella o un tumore ormolo dipendente come l'albero carcinoma o una trombosi, sono queste tra le controindicazioni principali, in tutti gli altri casi possiamo usare una pillola con estradiolo naturale e di Enogest, questa pillola è stata studiata fino ai 50 anni ed è stato dimostrato che ha una maneggevolezza, una sicurezza, un'efficacia d'uso straordinaria e adesso sono anche stati pubblicati i dati sul rischio trombotico che è più basso del nostro pillola di riferimento. Quindi abbiamo proprio una tranquillità sul fatto che in questo modo la signora arriva bel bella a 50 anni senza essersene accorta. A 50 anni andiamo a valutare se ha sintomi e a fare due dosaggi ormonali e passeremo, facciamo proprio, traghettiamo verso le vere terapie ormonali sostitutive. Qual è la differenza? Che la pillola mi mette a riposo l'ovaio e quindi anche se l'ovaio è capriccioso a quel punto non mi disturba. Dopo la menopausa non andiamo più a metterlo a riposo e quindi se c'è un po' di testosterone prodotto ce lo teniamo e diamo estrogeni bioidentici e progesterone naturale. Questa è la prima scelta perché è stato dimostrato che con questa combinazione non abbiamo nemmeno quell'incremento minimo del rischio alla mammella che ci dava invece la terapia che era stata fatta in America. Poi valuteremo se integrare con un po' di testosterone soprattutto di estrazione vegetale in pomata perché questo ci ridà una sessualità che avevamo dimenticato eventualmente un po' di idea, questo ormone del surreno ormone della giovinezza perché consente a ogni tessuto di prodursi poi gli ormoni figli, cioè l'estrogeno e il progesterone e quindi di ridarci quel benessere tessutale che altrimenti abbiamo perduto. Faccio un esempio concreto. Se la donna prende 10 mg di DEA, dico la quantità perché ci sono studi precisi su queste quantità, e fa attività fisica, il suo muscolo capta dal sangue il DEA, lo trasforma in testosterone ed estrogeni e costruisce più un po' di proteine contrattili, la miosina, l'actomiosina, la tropomiosina. Cosa succede? Che noi facciamo attività fisica e abbiamo di nuovo quei bei muscoletti di una volta invece che fa una fatica titanica per avere dei muscoli così con le bracine a vela. Se leggo, se studio, se mantengo vivo il mio cervello, il cervello capta il DEA e me lo trasforma in estrogeni e testosterone. E sulla mammella, direte voi? Bene, sulla mammella il DEA va sui recettori beta degli estrogeni che sono antiproliferativi e riparativi. Quindi non ci dà inquietudini, purché il dosaggio sia quello che ho detto, o 10 o 25, ma sarà il medico a decidere, non fate autogestioni, non di più, perché sappiamo che al di sopra di questa quantità gli ormoni figli diventano troppo alti. Quindi, quando parliamo di terapia ormonale sostitutiva, significa che noi dobbiamo dare la quantità di ormoni giusta anche per quella taglia di donna. Io su questo insisto molto. È diverso quello che do a una che pesa 40 kg e una che me ne pesa 80. A quella di 120 non glieli do proprio, perché mi produce già tantissimo estrogeno, estrone, cattivissimo lei col tessuto adipose. Non vado ad aumentare i rischi, anzi, semmai do un po' di progesterone per proteggere l'utero. Quindi, quando dico su misura, devo tener conto del peso corporeo, dei rischi, delle controindicazioni e dei sintomi, naturalmente, che la signora ha, in modo di poter dare, a seconda dell'età e di queste caratteristiche, quel vestitino su misura che sia giusto per lei e che vada a minimizzare i rischi e a valorizzare i benefici della terapia, sempre, lo ripeto sempre, con stili di vita sani. Non do la terapia a donne che non hanno stili di vita adeguati, perché questo significa solo potenziare i guai. Grazie, dottoressa. Come sempre, chiara ed efficace nell'esposizione, come sempre il tempo a disposizione è volato via. Ringraziamo doppiamente la dottoressa per la disponibilità e l'ospitalità e per qualsiasi riferimento vi manderemo in sovraimpressione tutte quelle che sono i link, piuttosto che i riferimenti Facebook e i siti. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.